Il calcio d'inizio, ultime verifiche da parte di Dattile, dunque comincia questa sfida, il ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia. Balzaretti che trova il corridoio per Zalageta, Zalageta che spesso è andato a segno in Coppa Italia, un po' anche il suo torneo, la sua manifestazione, cross di Balzaretti. Del Piero, Del Piero cerca lo spazio per la conclusione Mancina che è vincente ed è un gol storico per Del Piero e per la Juventus. E' il centottantatresimo in bianco-nero per Del Piero che stacca Boniperti, dunque da stasera in assoluto il miglior realizzatore nella storia della Juventus. Nono minuto del primo tempo, Juventus 1, Fiorentina 0. E' stato bravissimo perché ha stoppato la spalla alla porta, in un metro è riuscito a girarsi, ritrovando la coordinazione, in girata ha battuto imparabilmente Frey con un tiro proprio sotto la traversa. 16 minuti del primo tempo, Juventus 1, Fiorentina 0, 2 a 2 all'andata. Dattilo, vuole il rispetto della distanza da parte della barriera, una barriera che ha 5 elementi ma ci sono... Esatto, che tentano il disturbo, il buco in barriera, sono due i Juventini. Anche Nedvede prova a dar fastidio ma a Del Piero, niente da fare per Frey! Strepitoso Del Piero stasera al Dele Alpi, 16 minuti, 30 secondi, 2 a 0 per la Juventus, doppietta di Del Piero e il totale delle sue reti in bianco-nero. Sale a 184. È stato indubbiamente bravissimo a tagliare la palla sopra la barriera ma era una barriera troppo crepita sia di giocatori della Fiorentina ma anche opportunamente da quelli della Juventus che hanno levato la visuale a Frey che non è riuscito neanche a vedere partire la palla e quindi a intervenire senza nulla togliere il colpo di Del Piero che è stato un colpo da maestro. Come si può adesso ritrovare, ridare motivazione? Devono cercare di forzare i ritmi sperando che la Juventus si senta già la... E non sembra giudicare da questa sfida d'attacco ancora Del Piero, non è finita e c'è il gol di Mutu per il terzo centro della Juventus. Già tre reti, 0 Fiorentina e sono 21 i minuti del primo tempo ma anche in questa rete ci ha messo tanto del suo Del Piero. Frey ha cercato di opporsi per come ha potuto, ha sfondato Neved a sinistra, azione poi proseguita da Del Piero che entra in area dopo aver scaricato su Del Piero. Molto reattivo si coordina Del Piero e poi per il tap-in da media distanza ha colpito Mutu. Finisce il primo tempo, Juventus 3, Fiorentina 0, 2 a 2 all'andata. Zalageta, Del Piero, Zalageta, la palla è sul sinistro, attaccato da Gamberino in faluce, c'è il calcio di rigore. Del Piero contro Frey, Del Piero ha già segnato due gol. La rincorsa del capitano, destro, spiazzato Frey, 4 a 0, l'esultanza di Del Piero che saluta i tifosi più accesi della Juventus. Toni, cerca di controllare lo turam, Toni lo spinge, colpo di testa e rete da parte di Bozinov. Juventus 4, Fiorentina 1, ottimo lo stacco di Bozinov che leggermente arretrando è riuscito a colpire con estrema precisione. Niente da fare per Buffon.